Smartosis è un progetto dell'Università dei Sud di Roma alla Savienza per un progetto di domotica che permette l'interconnessione di tutti gli apparati, gli elettrodomestici all'interno di una casa per poter permettere alla casa di eseguire delle azioni intelligenti. Esempio di azioni intelligenti possono andare dal risparmio energetico all'uso di robot per esempio per assistenza agli anziani, alla possibilità di definire delle azioni complesse come ad esempio gestire, seguire gli spostamenti di una persona all'interno della casa e quindi creare le condizioni che permettono alla persona di eseguire alcune operazioni come ad esempio seguire la televisione.